Per il trentunesimo turno di eccellenza, al campo Castrum di Giulianova, si sfidano i padroni di casa della Torrese e gli ospiti della Bagica Lupo Vasto Marina. Mr. Cristofa, all'informazione tipo, scende in campo con un 4-3-1-2 con Gentili ad ispirare la coppia d'attacco formata da Santi Rocco e Grauberg, fresco di convocazione nella selezione Under 21 Estone. Mr. Antonaci, privo di letto, Fiorone e Galante, propone un 4-4-2 molto ordinato ed efficace. Inizio veramente per i giallorossi, che sfiorano il vantaggio con Gentile, che calcia alto da buona posizione. Al terzo minuto si accende Grauberg, stop di Petto e di prima intenzione calcia verso la porta, ma Gianmarino sventa in angolo. Dal successivo corner si ripete il duello tra Grauberg e Gianmarino. L'Eston è di testa dall'interno dell'area piccola, ma Gianmarino dice ancora no, in qualche maniera. La palla danza sulla linea, ma non entra. Al 26esimo i locali reclamano un penalty per un presunto fallo di mano di Iaroci su un colpo di testa di Santi Rocco. Torrese ancora pericolosa dai corner. Il primo al 32esimo con Festa, che da buona posizione schiaccia il tiro e la palla finisce sul fondo. Poi al 34esimo con Gentile, che dopo uno schema spara alto dal limite dell'aria. Con le immagini di Flavio Forcellese andiamo nella ripresa. Al primo minuto gli ospiti si portano in vantaggio con la riviera, ma l'arbitro annula su segnalazione dell'assistente per un presunto fallo di mano. Poi la Torrese torna a spingere. Al settimo minuto di Federico da buona posizione di testa, ma la palla finisce sul fondo. Al 16esimo Santi Rocco ha una buona occasione. Assistito da Gentile sull'out di sinistra, rientra, salta un avversario, ma la sfera si spegne sul fondo. Al 24esimo ancora la coppiata Gentile-Santi Rocco protagonista, con il primo che serve in profondità il numero 9, ma la palla non vuole saperne di entrare. Al 26esimo ancora Santi Rocco lanciato in profondità da Mastrilli, ma cincisca sul più bello. Poi non accade più nulla, fatta eccezione per un tiro di Gentile in bello stile, ma la palla va ancora sul fondo. Dopo 9 minuti di recupero finisce la contesa. Un buon punto per gli ospiti, considerate le tante assenze. Mezzo l'impianto per la Torrese, anche in virtù della prestazione offerta nella prima frazione. Il finale dal custom di Giulianova è Torrese 0, Bacica Lupo 0. Oggi era importante portare a casa il punto? Era un miracolo portarla a casa il punto e quindi penso che i ragazzi oggi hanno compiuto un miracolo, soprattutto sia per la caratura della squadra avversaria, ma soprattutto per la situazione della nostra Rosa. Oltre agli altri che mancavano, già da una settimana è venuto a mancare per febbre dalla convocazione il portiere. Fironi, la nostra punta, su cui contavamo tanto, Letto squalificato, abbiamo dovuto portare dei Juniors che non hanno mai giocato e addirittura il porterino oggi ha esordito. Insomma, voglio dire, eravamo in una situazione veramente messa male. Quindi questo punto penso di averlo meritato, soprattutto l'hanno meritato i ragazzi, quindi ce lo teniamo stretto e speriamo che sia il primo di una serie abbastanza lunga per salvarci. Sì, avevo detto proprio ai ragazzi durante tutta la settimana che sarebbe stata una partita difficilissima, si è rivelata tale, noi il primo tempo secondo me l'avamo approcciata bene, avevamo creato 4-5 situazioni per poterla sbloccare, con il passare di minuti il risultato rimaneva solo 0-0, abbiamo iniziato un pochino ad innervosirci ed il secondo tempo abbiamo approcciato male la gara, loro addirittura avevano trovato l'episodio del gol che poi è stato vanificato dall'intervento dell'albitro, però poi il secondo tempo ci siamo innervositi, la squadra ospite ha provato in tutti i modi a fermare il gioco, a spezzettare il gioco, questo ci ha un po' innervosito, ci ha un po' fatto perdere di lucidità, questo non deve accadere, noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco sempre e comunque, cercando di fare il meglio possibile per cercare di sbloccare la gara. Purtroppo non ci siamo riusciti, dispiace in virtù anche dei risultati delle squadre che ci precedono, potevano essere tre punti veramente importanti per chiudere quasi definitivamente il discorso play-off, così non è stato, ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a lavorare.